Questa rassegna di moda ecclesiastica porge il benvenuto a sua eminenza e a tutti i suoi illustrissimi ospiti. Grazie a tutti. Modello numero uno, paziente e raso nero su modello classico per suori novizie. Lo stesso modello è concesso a realizzarlo anche con altro tipo di tessuto, quale la zeta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle nei due colori nero e blu marine per climi molto rigidi. Modello numero due, torterè di Baculé, fornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti di tettosi di aereazione. Modello numero tre, petite sœur della tentazione di purgatoire. E' il mondo che deve seguire la chiesa, non è il contrario. Modello quattro, pressuore missionarie. Un completo entiela tropitale di grande praticità. E questo vorrebbe riadevastare lo spirito dei denti? E noi tutti poi, e zitti, in fila, a confessarsi da un prete che sareste come lo stagnaro? Ma state zitto di eredico che si è divorziato in belgio. Gioca di meno e prega di più e fatela come voglio. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. I paramenti sacerdotali hanno anch'essi subito una certa evoluzione. Amitto, piviale, cotta, pianeta e casula sono oggi prodotti in tessuti di incomparabile leggerezza e nei colori più smaglianti che non si stimuano. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di più e fatela come lo stagione. Gioca di meno e prega di meno e prega di meno. Gioca di meno e prega di meno e prega di meno. Gioca 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 di meno.